Fino a un paio d'anni fa tutto quello che mi interessava del cibo era averne di qualsiasi tipo in qualsiasi momento ne avessi voglia. Nel mio frigo c'erano stragole in pieno inverno o broccoli d'estate. Invece da un paio d'anni ho scoperto cose che hanno iniziato a farmi guardare quello che mangiamo da un altro punto di vista. Stando agli ultimi anni di ricerca scientifica e rapporti internazionali il nostro sistema alimentare emette un terzo di tutti i gas serra che causano il riscaldamento globale, usa il 40 per cento della superficie della terra, il 70 per cento dell'acqua dolce disponibile, è la principale causa dell'estinzione di moltissime specie e non riesce a garantire una dieta sana a quasi due miliardi e mezzo di persone che soffrono o di malnutrizione o di obesità. Per di più i costi nascosti del sistema alimentare superano il suo valore monetario, cioè il valore del sistema alimentare globale è 9 mila miliardi di dollari, ma i danni sociali e ambientali raggiungono 12 mila miliardi di dollari che qualcuno prima o poi dovrà pagare. Insomma il modo in cui produciamo il nostro cibo rischia di mettere a repentaglio le risorse di cui avremo bisogno in un futuro prossimo per continuare a sfamarci. Eppure tutto questo non sembra interessarci più di tanto. Anzi, la più grande assurdità di tutte è che nonostante tutto ogni anno sprechiamo un terzo di tutto il cibo che produciamo. Ormai gli esperti non sanno più come dircelo. Ma come mai continuiamo a mandare avanti questo sistema rotto? Anzitutto dobbiamo capire come siamo arrivati fino a questo punto. Per farlo partiamo dal 2020 e torniamo indietro di cent'anni. Quindi ora inizia la lezione di storia. È il 1920, sulla terra ci sono quasi 2 miliardi di persone. Ed è il primo dopoguerra, quindi l'Europa si trova in una situazione disperata. La popolazione ha subito perdite gravissime e nonostante una persona su tre lavori in agricoltura, il cibo buono e abbondante ha un lusso che la maggior parte delle persone non si può permettere. Il cittadino medio segue una dieta monotona fatta principalmente di legumi e cereali. Formaggi e carne sono rari, sono cibi per pochi eletti. Le famiglie spendono per il cibo il 70% dei propri guadagni. E comunque non riescono a permettersi una dieta dignitosa, cioè abbondante, varia, sana. Budget poverissimi per comprare cibo oltretutto non di qualità. E le malattie legate alla malnutrizione sono estremamente comuni. Pensiamo alla diffusione di malattie come la pellagra, dovuta a un consumo continuo di cibi come la polenta, polenta consumata da sola e quindi non forniva quell'apporto di vitamine necessario per un corretto sviluppo. Insomma, si può dire che in Italia, come in altri paesi in Europa in questo momento, si soffre la fame. Ma quando è che le cose sono cambiate? Dobbiamo spostarci nell'America degli anni 20 e 30. Nuove tecnologie stanno prendendo piede. Il frigorifero e il cello fanno aiutano a conservare il cibo. Le scatole di cartone corrugato consentono di trasportarne grandi quantità in modo più efficiente. Noi abbiamo avuto la grande fortuna, il grande ingegno di immaginarci come conservare i prodotti alimentari. Il frigorifero è l'esempio più emblematico. E a questo punto la dieta diventa meno di cibo cotto, ma al cibo cotto si affianca sempre più il cibo fresco. Nel frattempo l'America è diventata sempre più urbana e le persone lasciano i campi per la città, dove ormai vive una persona su due. Stanno nascendo le grandi metropoli così come le conosciamo oggi. Però arriva la crisi del 29 e le persone improvvisamente sono di nuovo povere. Il governo teme che i piccoli mercati di quartiere e i droglieri indipendenti non riescano a sfamare le persone che vivono in città. Le menti del paese stanno cercando di trovare la risposta a questo problema. E tra queste c'è Michael Cullen. Lavora in un piccolo negozio che aveva già introdotto un sistema innovativo, quello del self-service, ispirato alla catena di montaggio di Henry Ford. Cullen ha un'idea. È apparentemente banale, ma si rivelerà geniale. Spazi più grandi, abbondanza e meno personale, con un obiettivo principale, abbassare i prezzi del cibo. Nasce così nel 1930 il primo supermercato come lo conosciamo oggi, che nel giro di pochi anni diventa un punto di riferimento per i cittadini americani. Aprono sempre più negozi e sempre più grandi. Nel 1930 c'era un supermercato, nel 34 94, nel 36 1200. Entro il 1965 quasi ogni negozio di alimentari si era trasformato in un supermercato. Il primo negozio di Cullen del 1930 era di 557 metri quadrati. In dieci anni il supermercato medio era grande 836 metri quadrati. Oggi il supermercato medio è di 3500 metri quadrati e può arrivare a misurarne anche 18000. Superata la crisi del 29 arriva il prossimo problema, cioè la seconda guerra mondiale. E come spesso succede, la necessità è la madre dell'invenzione. Il governo americano ha bisogno di nutrire i soldati mentre sono a combattere al fronte. Si usano nuove tecnologie come la disidratazione, il congelamento istantaneo e il packaging per creare pasti nutrienti che non vadano male per molto tempo e che possano stare nella tasca di un soldato. Così nasce una nuova industria per produrre le K-Ration, cioè tre barrette di cibo processato confezionate separatamente, una per colazione, una per pranzo e una per cena, che dovrebbero fornire tutti i nutrienti di cui un soldato ha bisogno in un giorno. E alla fine della guerra questa industria si converte per servire i cittadini. In pochi anni cambia radicalmente il modo in cui gli americani consumano il cibo. Ma il governo americano non vuole fermarsi qui. Questo nuovo sistema, basato sul supermercato e sui prodotti confezionati, può essere un cavallo di battaglia, uno strumento di propaganda per esportare il sogno americano all'estero. Mi ha colpito pensare al supermercato come un mezzo di propaganda. Ma visto il periodo storico, ogni strumento può diventare un'arma, perché è il 1956. Stati Uniti e Unione Sovietica si contendono l'affermazione mondiale come superpotenza. È una lotta per convincere gli altri paesi a sposare la propria causa. E in questa lotta, che si gioca sullo spazio, sugli armamenti e che filtra ogni aspetto della vita, il supermercato diventa uno strumento chiave. Agli europei appena usciti dal razionamento, l'abbondanza americana sembra irraggiungibile. E con il boom economico alle porte, l'Italia per gli americani è un'opportunità da non farsi scappare. Così nel 1956 organizzano un'esposizione a Roma in cui mostrano il supermercato americano per la prima volta a un pubblico europeo. Il settore più interessante della rassegna è costituito da un cosiddetto supermercato. Si tratta di vastissimi negozi, frequenti negli Stati Uniti, che raggruppano sotto lo stesso tetto tutto ciò che serve per la mensa. Ma la caratteristica più saliente di questi grandi magazzini gastronomici è che non vi sono commessi. Terminato il giro, la massaia deposita la merce scelta su un piano scorrevole e la cassiera fai il conto. Gli italiani non hanno mai visto niente del genere, l'esposizione è un grande successo. Così Nelson Rockefeller, imprenditore appoggiato dal governo americano, pensa che sia arrivato il momento dell'Italia. Nelson Rockefeller ha un obiettivo, dimostrare che l'America può esportare cibo a bassi prezzi. Con l'appoggio di alcuni tra i più grandi imprenditori italiani del momento, Rockefeller riesce a portare avanti il suo progetto. Un anno dopo apre Milano il primo supermercato italiano e, in un certo senso, il primo supermercato europeo. La gente, oltre a voler comprare, voleva vedere. Non ha mai visto un'ananas in vita sua. Le opposizioni a questa espressione di capitalismo americano ovviamente non mancano. Ma anche queste non arrestano l'avanzata del supermercato, che dopo l'arrivo in Italia inizia a espandersi a macchia d'olio non solo in tutta Italia, ma in tutta Europa. E nel giro di 20 anni la miseria alimentare in Europa diventa solo un ricordo. Più persone vanno al supermercato, più i prezzi scendono e quindi il cibo diventa più accessibile. Chi fino a poco tempo prima spendeva quasi tutto il proprio budget sul cibo, ora può risparmiare senza che sulla tavola manchi nulla. Veniamo qui entrando all'altra parte della città settimanalmente e con quello che risparmiamo possiamo andare al cinema una volta alla settimana. Nella nostra vita non avevamo mai visto un film prima. Può sembrarci banale, ma il supermercato è un vero spartiacque. Il cibo non è più qualcosa di incerto di cui preoccuparsi. È accessibile, sicuro, abbondante. L'arrivo del supermercato segna un nuovo modo di vivere. Il tempo che prima si dedicava a capire come sfamarsi diventa tempo libero. La preparazione del cibo inizia a essere più rapida. Arrivano il dado vegetale, la passata pronta, il cibo precotto. E le donne ora possono evitare di passare intere giornate in cucina. Quando mia moglie non c'è, mi tocca fare tutto da me, anche il bagnetto a mio figlio. Ma più il cibo diventa accessibile, più si trasforma da genere di prima necessità in merce. E così cambiano anche le nostre pretese. Ora cerchiamo l'affare, la qualità a basso costo. La convenienza è il nuovo valore che guida le nostre scelte alimentari. E nell'aria c'è quest'idea che tutto è possibile, che si può fare sempre più e sempre meglio. Così tra i produttori la competizione schizza alle stelle. Si lotta a chi riesce a fare prezzi più convenienti, a chi ha un assortimento più ampio e più esotico di prodotti e a chi offre più comodità. L'industria alimentare deve sempre inventare e deve forzare l'agricoltura, quindi la natura, a fare cose che normalmente non farebbe. Da lì in poi, in pochissimo tempo, arrivano i ristoranti esotici, i discount, la produzione industriale di carne a basso prezzo, i fast food, i servizi per la consegna a domicilio, fino all'arrivo di compagnie che portano la spesa a casa in dieci minuti. Proprio in quei decenni cresce esponenzialmente la produzione di carne e prodotti animali, che sono responsabili per la maggior parte delle emissioni di gas serra e dell'uso delle risorse naturali legate al sistema alimentare. Schizza alle stelle l'uso di fertilizzanti e pesticidi e una porzione sempre più grande della superficie terrestre viene dedicata all'agricoltura intensiva. Dal lato dei consumi, in meno di 50 anni avere cibo fresco, esteticamente perfetto e a basso prezzo, a pochi minuti da casa, diventa scontato, cioè indispensabile. La miseria alimentare è una cosa che succede solo altrove. Per molti di noi l'abbondanza è l'unico rapporto con il cibo che conosciamo. Ma insieme al miracolo arrivano meno visibili le conseguenze di questo cambiamento. L'unica risposta che è stata in grado di trovare la grande azienda dei supermercati è stata quella di insistere sul prezzo basso fisso, sul 3x2, su tutte quelle offerte promozionali che hanno in qualche modo creato l'idea che il cibo non valga più nulla. E se il cibo non vale più nulla, il primo a rimetterci a chi lo produce. I piccoli produttori non riescono a stare al passo con questo enorme ingranaggio della grande distribuzione, perché sono costretti a vendere i propri prodotti a prezzi talmente bassi che a volte le spese superano i guadagni. Questa non ce la pagano neanche un euro e cinquanta, è una cosa giusta, questa è una cosa giusta, è ingiusta, proprio per farti vedere, è proprio giusta, giusta proprio. Se vuoi un broccoletto fresco lo devi pagare, questo sistema che deve costare poco non resiste, è il poco che vuol dire. Noi stiamo vendendo le arance della Calabria a un euro in Calabria, ma quanto gli arriva? Ma gli conviene a questo contadino calabrese stare lì a raccogliere arance? No, conviene lasciare le tue le piante. La coperta è troppo corta e alla fine i furbi vincono, e quello che fa l'olio extravergine giusto, alla fine viene penalizzato. Ma l'errore è sicuramente anche della grande distribuzione che lo vende 2,99. Noi abbiamo trasformato l'agricoltura in una grande industria a cielo aperto che deve produrre sempre tutto in abbondanza. Dove prima ti cresceva un broccolo, ora te ne devono crescere tre, cinque. A rimetterci sono gli agricoltori che per sopravvivere devono investire sulla quantità rispetto alla qualità. E oltre a loro ci rimettono tutte le figure intermediarie del settore, come camionisti, magazzinieri e rider, che nonostante rendano il sistema efficiente e conveniente, sono spesso sottopagati. Quello che mi ha lasciato più sorpresa è stato scoprire che alla fine in questo sistema sta iniziando a fare fatica pure la grande distribuzione. Il supermercato è stato quasi un po' vittima del suo successo. Hanno chiuso una quantità di distributori in Italia, ma chiudono anche altrove. I supermercati chiudono perché la naturale evoluzione di questa nuova mentalità ci ha portati a cercare sistemi sempre più veloci e convenienti, come la spesa online. Più vado avanti, più mi sembra che questo modello non convenga davvero a nessuno tranne a chi compra, che invece può vedersi soddisfatte richieste sempre più capricciose. Nessuno vuole una mela ammaccata, c'è un problema di educazione del consumatore spaventoso. Tu nello stesso frigorifero puoi trovare dei prodotti che in natura non esisterebbero nello stesso momento. Abbiamo dimenticato, per esempio, la stagionalità. Credo che molti non sappiano più se una fragola cresce d'inverno o in primavera, se l'arancia è un prodotto estivo o invernale. Insomma, ricapitoliamo. Buttiamo via enormi quantità di cibo. Non sappiamo più quale frutta e verdura è di stagione e scartiamo qualsiasi alimento non sia della forma e delle dimensioni perfette. Vogliamo cibo pronto, veloce, buono, sano, ma senza essere disposti a pagarne il giusto prezzo. Il consumatore oggi si trova in una situazione in cui, oggettivamente, è più avvantaggiato. Può avere una cena pronta a casa in dieci minuti che gli arriva qualcuno che gli bussa alla porta. Prendiamoci un attimo, stiamo dicendo che la fonte di tutti i mali del sistema alimentare è il supermercato? Assolutamente no. Ma la nascita del supermercato segna la nascita di un rapporto diverso con il cibo. Un rapporto che è senza dubbio anche il risultato di società sempre più urbane, consumiste e individualiste, che tendono a dare al cibo sempre meno valore e in cui il potere è sempre più sproporzionato a favore del consumatore. Però facendo ricerca ho capito che la vittoria dei consumatori è più un mito che una verità. Questo articolo della Harvard Business Review, per esempio, si chiede, quando il consumatore vince, chi perde? E risponde. Sfortunatamente questa teoria sta rendendo molti consumatori più poveri in questo momento. Certo, possono acquistare tv a schermo piatto a prezzi incredibilmente bassi, ma questo aiuta poco se poi sono disoccupati. Lo stesso si può dire per il cibo. Pagarlo meno e averlo più veloce a casa vuol dire anche vivere in una società che non rispetta il lavoro e che sta rendendo il pianeta sempre meno abitabile. Il consumatore alla fine rischia di non vincere col prezzo sempre più basso. Tutti noi non siamo solo consumatori, non puoi ignorare la parte di te che sta lavorando e concentrare sulla parte di te che sta comprando. Se tu vai in un supermercato oggi e compri una settina di carne a 2 euro, quei 2 euro hanno un impatto sull'ambiente che è enorme. Questo sistema sta alimentando una crisi climatica che ci si sta ritorcendo conto. La scienza è chiara, altri cent'anni a questo ritmo non li abbiamo. Se non riusciremo a invertire rotta nel giro di pochi anni, il pianeta inizierà a comportarsi in modo più inaffidabile. I fenomeni meteorologici estremi aumenteranno ed esauriremo le risorse del nostro pianeta prima che queste possano rigenerarsi. La buona notizia è che il nostro sistema alimentare, così come lo conosciamo adesso, è relativamente nuovo. È più giovane di loro. Per dirlo in un altro modo, se la storia dell'uomo finora fosse durata un giorno, il nostro sistema alimentare attuale sarebbe arrivato da meno di 4 secondi. questo significa che il sistema che abbiamo creato nell'ultimo secolo non è una necessità, è semplicemente stato, a un certo punto, la risposta che siamo stati in grado di dare ai problemi di un periodo storico. Ora però i problemi sono altri e forse anche più urgenti, ma facciamo fatica a trasformare questo sistema perché in fondo gli ultimi cent'anni hanno trasformato anche noi. E allora forse un nuovo modello sarà possibile soltanto quando saremo noi disposti a cambiare la nostra mentalità e quindi il rapporto che abbiamo con quello che mangiamo. E per cambiare il nostro rapporto con il cibo dobbiamo anzitutto sapere come arriva e da dove. Per farlo siamo partiti per il porto più grande d'Europa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.